no dice male dice ma perché ma come male ma comunque male perché sai questo questo capodanno male no no male nel senso che comunque non proprio malissimo però male capito facciamo facciamo fatica a sto capodanno c'è un po fatica mannaggia un capodanno male questa è la frase di edoardo donna maria che si trova in messico ma perché un capodanno male antonella fiodelisi e anche lei fuori l'italia ma con chi si trova la ragazza a londra la coppia che ha fatto sognare nel 2023 tantissimi fan ormai è solo un ricordo eppure quella frase social di edoardo e racchiusa tutta la sua tristezza la sua speranza è andata in fumo in frantumi ma perché antonella è partita da salerno dalla sua famiglia per andare a londra per un capodanno come dice lei meraviglioso ma con chi con quale ragazza vi invito a vedere l'altro mio video per conoscere qualche dettaglio e indizio in più sul nuovo amore di antonella la ragazza ha postato foto sui social della festa di capodanno ma inquadrando sempre solo lei non vuole quindi rilevare pubblicamente questa nuova relazione ha paura forse della reazione dei fan e in particolare dei donnalisi edoardo è partito dall'italia e si è fermato a dallas per incontrare i suoi genitori e poi ha proseguito il suo viaggio in messica un viaggio per dimenticare il suo passato il suo amore antonella e forse per costruire un suo nuovo futuro